Che bel pomeriggio oggi alla Sirenetta, ecco che si sta, diamo l'inaugurazione della spiaggia senza barriere 2018 e già la festa si respira nell'aria, presenti tutte le associazioni di disabili, presenti tutti i nostri carissimi amici di Mazzara che possono venire a godere di questo spettacolo meraviglioso che è il mare, ma soprattutto dell'amicizia, del clima di gioia, di armonia, di unione, di collaborazione che si respira qui tra noi, di fatti quest'anno spiaggia senza barriere si apre con qualche novità, abbiamo la collaborazione, abbiamo cercato la collaborazione con le associazioni di volontariato che operano nella nostra città, al Biflanti Uniti e l'associazione Teniamoci per Mano Ollus e la nostra amministrazione cerca sempre di migliorare questo servizio che ormai è già collaudato da 5 anni e tutti i giorni della settimana i nostri, tranne la domenica, i nostri disabili potranno venire qui e troveranno oltre alla struttura e alle attrezzature adatte per loro, per la balneazione, troveranno soprattutto il personale che con tanto amore accoglie e crea loro quell'ambiente molto simbatico, ma soprattutto apre il cuore a queste persone creando un'atmosfera veramente adatta per i loro bisogni e le loro necessità Anche quest'anno, come gli altri anni, abbiamo deciso di collaborare con l'amministrazione comunale per portare avanti il progetto Spiagge senza barriere Abbiamo unito le forze, diverse associazioni come Unitalsi, Abilmente Uniti, Corro per Da Noi Clown, proprio per dare una nostra peculiarità, ognuno con il proprio stile a questo meraviglioso slancio di inclusione Oggi appunto c'è l'inaugurazione, l'inaugurazione con giochi in spiaggia organizzati per tutti i bambini offrendo le patatine e il gelato in un momento di convivialità Oggi è una bellissima giornata in questa festa di inaugurazione Quest'anno l'associazione Abilmente Uniti ha voluto dare qualcosa in più a questa spiaggia senza barriere Abbiamo dato la possibilità a tutti di scegliere il Lido dove poter andare Perché sì, è vero, io posso venire qui, posso avere l'assistenza, che è una cosa straordinaria Però devo avere anche la possibilità di scegliere il Lido dove andare Perché posso avere gli amici al Macao, posso avere gli amici al Lido Morgana e andare lì liberamente L'associazione Abilmente Uniti ha sensibilizzato i Lidi affinché mettessero a disposizione un ombrellone gratis Per il disabile è il loro accompagnatore e in più abbiamo messo, grazie anche all'associazione Coro Pardà Una sedia in ogni Lidi L'associazione Abilmente Uniti ha messo anche due sedie a disposizione Che ci hanno dato, uno Fabrizia Carr e l'altro l'ortomedica di Alice Marchese Che con grande sensibilità hanno aderito al progetto L'ombrellone sarà tutti i giorni da lunedì alla domenica e potete andarci tranquillamente Buon diventimento Hey! Dottoressa! 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 Dottoressa!